I fari full LED adattivi hanno rivoluzionato la guida in notturna, ma ovviamente una tecnologia così sofisticata l'abbiamo trovata solo su auto di lusso del segmento premium. Almeno fino ad oggi, perché Opel ha deciso di portare per la prima volta i fari full LED a matrice su un'auto molto più accessibile, come la nuova Astra. I fari Intellilux, così li hanno ribattezzati in Opel, garantiscono una visibilità in notturna eccezionale. Praticamente è come viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi, ma senza avere il rischio di abbagliare gli altri veicoli. Tra gli utenti deboli della strada dobbiamo sicuramente considerare i motociclisti, quindi abbiamo deciso di mettere alla prova i fari Intellilux dal punto di vista degli utenti delle due ruote. È incredibile vedere come i fari adattivi Opel siano in grado di eliminare tutti quei problemi di visibilità tipici della guida in notturna di noi motociclisti. Le auto, infatti, finiscono molto spesso per abbagliare chi sta in moto o perché i fari sono regolati male o per la particolare posizione di guida del motociclista. Riflessi fastidiosi, spesso aggravati dalla presenza del cupolino trasparente della moto e dalla visiera del casco. Con gli Intellilux, invece, non succede niente di tutto questo. Non appena l'Astra identifica il motociclista, regola il fascio luminoso dei fari, con due risultati immediati. Massima visibilità per chi sta in auto, nessun riflesso fastidioso per chi guida la moto. Francesco, visto che sei rimasto super colpito da questi fari Intellilux prima mentre te la viaggiavi in moto, però guarda che funzionano alla grande anche con le auto. Non importa quale sia il tipo di veicolo che incrociamo, i fari Intellilux sanno sempre come modulare il fascio di luce alla massima potenza, per non abbagliare e continuare ad illuminare al meglio. E questo vale soprattutto per le auto che incrociamo in senso opposto, ma anche per quelle che ci precedono. Matteo, ma spiegami fondamentalmente come funzionano questi fari adattivi. I fari Intellilux, sviluppati direttamente dal Centro Ricerca e Sviluppo Opel, sono composti da 16 segmenti di LED, 8 per lato. Questi fari offrono un fascio di luce bianca potentissimo, che si apre davanti all'Astra a 180 gradi, andando ad illuminare non solo in profondità, ma anche ai lati e persino seguendo l'andamento delle curve. Le matrici LED però sono in grado anche di spegnere o accendere i singoli diodi, in modo da non infastidire gli altri veicoli che sopraggiungono, garantendo al tempo stesso la grande visibilità offerta dagli abbaglianti. L'intelligenza artificiale degli Intellilux si nasconde nell'Opel Eye, una telecamera frontale che individua gli altri veicoli presenti sulla strada, per poi comunicare alle matrici, istante per istante, quali debbano essere i singoli LED da accendere o spegnere. Una telecamera molto sofisticata, che ha permesso agli Intellilux di diventare i primi full LED adattivi a non essere collegati al sistema di navigazione. Francesco, un'altra cosa che mi ha colpito un sacco quando ho iniziato a guidare questa Astra con questi Intellilux è la loro potenza luminosa, soprattutto se li paragoni a dei fari halogeni tradizionali. Io per esempio prima sono risalito sulla mia macchina, che ha dei fari normali, e la differenza è veramente abissale. Questi Intellilux costano 1.300€, ti devo dire, è un optional abbastanza costoso, però io li metterei perché fanno veramente la differenza in termini di sicurezza, e poi devo dire che aumentano anche un po' il piacere di guida in notturna, perché seguono molto l'andamento della strada ed è veramente spettacolare utilizzarli. Ho letto che con questi Intellilux si riescono a vedere ostacoli fino a 30-40 metri prima rispetto a un classico faro halogeno o anche aloxeno, e non è male perché significa avere circa un secondo e mezzo di tempo in più per reagire, e può significare fare o non fare un incidente. Francesco, tu questi fari li hai vissuti sulla tua pelle in moto, come ti sono sembrati? Sinceramente non mi sono accorto di nulla, nel senso che ho visto che avevi un fascio luminoso bello potente, però sinceramente mi sono anche chiesto se tu avessi inserito gli abbaglianti. No, guarda, ti assicuro che ogni volta che ci siamo incrociati avevo proprio gli abbaglianti sparati, ma quindi non ti ho mai abbagliato. Per nulla.